L'asse tra Salerno e l'Ucraina si rafforza e attraverso l'associazione Caline ed il Comitato Salernitano per gli aiuti all'Ucraina, domenica ha organizzato una manifestazione per consegnare simbolicamente agli autisti di due auto articolati gli aiuti raccolti a Salerno nelle ultime settimane e che partiranno per l'Ucraina nella medesima giornata. Presente questa mattina anche il padre di Asia Bassi, una giovanissima salernitana scomparsa improvvisamente lo scorso mese di novembre a causa della leucemia che non le ha dato scampo. Il papà con la sua famiglia e molteplici altri imprenditori e privati ha raccolto nel nome di Asia i beni che saranno inviati nel paese ex sovietico in aggiunta a quelli che tanti associazioni e gruppi nonché cittadini privati hanno donato in questi giorni all'associazione Italo-Ucraina Calina e al Comitato. Ancora una volta Olga Tariasuk che coordina la raccolta presso il suo market in via Cantarella ha espresso il suo ringraziamento ai salernitani. Medicinali, farmaci, roba da mangiare, vestiti per poi scaricare in Polonia e essere caricati quelli per l'Ucraina, che vengono da Ucraina, camion volontari che portano roba da Polonia a posti più bisognosi in Ucraina. Questa volta due camion che partono per iniziativa di signor Fabio Biasi si fa una piccola manifestazione perché lui e la sua famiglia vogliono dare un contributo a nome di sua figlia Asia che purtroppo a novembre è andata via. In nome di sua figlia vogliono fare questa manifestazione per poter mandare tutti i raccolti che abbiamo fatto in Ucraina, anche perché il signor Biasi ha fatto un appello ai suoi amici e partecipano veramente tutti. Volevo dire che i salernitani italiani proprio hanno preso in cuore la nostra tragedia, quello che succede in Ucraina e cercano di aiutare in qualsiasi modo. Non possiamo combattere però possiamo fare quello che possiamo fare qui. Sono molto generosi, sono sconvolta, sono emozionata. Ogni tanto quando vengono altre associazioni da diverse città della provincia portano qualcosa, è veramente grande. I ragazzi qua lavorano da mattina fino alle sere, ogni giorno non sempre hanno tempo di diciamo pranzare, riposare. Non tutti però rispondono in maniera corretta all'appello di aiuto. Spesso arrivano anche medicinali scaduti ed abiti usati. Per questo l'invito è di evitare di consegnare prodotti che non possono essere devoluti. Prima di tutto vi ringrazio tutti quanti per questa solidarietà, per starci vicino al nostro dolore, per vostro aiuto. Però vi supplico per favore prestate attenzione alle cose che ci state portando perché molto spesso portate i farmaci scaduti, alimentari scaduti, ricoperti di muffa, sono rovinati nelle scatole, pure alimentazione per i bambini scaduti, oppure indumenti in stato pietoso. Vi ringrazio molto per tutto quello che state facendo, però per favore non portate tutto quello che dovete buttare dalla casa e portate a noi.